Un pari che vale tanto. Il Frosinone esce indene da Pisa, giocando quasi tutto il secondo tempo in dieci. 1-1 il risultato finale grazie ai gol di Arma e Daniel Ciofani. All'arena Garibaldi, Stellone presenta i suoi con un 4-3-3. Le novità rispetto all'esordio sono Daniel Ciofani in avanti, Gucarin mediana e Blanchard come esterno-sinistro di difesa. La partenza dei nerazzuri di casa infatti è vemente con diverse sortite. Le conclusioni però dei pisani non inquadrano la porta difesa da Zappino. I toscani nel primo quarto d'ora continuano a spingere forte e al 14esimo passano. Cross di Pellegrini dalla destra ed incornata perfetta di Arma, il migliore dei suoi che infila Zappino. Un minuto dopo però il Frosinone ha già l'occasione per l'immediato pareggio. Assist di petto di Curiale per Paganini, il sinistro di quest'ultimo finisce sul fondo. I canarini si scuotono, la squadra di Stellone alza il baricentro e trova il gol. È il 24esimo, Daniel Ciofani dentro l'area di rigore raccoglie un invito di Paganini e insacca alle spaglie di Pugliesi. La gara torna in equilibrio, l'ultima occasione del primo tempo però è ancora di marca toscana. Arma serve martella sulla destra, l'esterno entra in area ed il sinistro supera Zappino, ma Frabotta prima della linea riesce a liberare. Ad inizio ripresa è ancora il Pisa a rendersi pericoloso. È il 51esimo minuto, panico in area canarina, azione prolungata infatti dei padroni di casa con i salvataggi sulla linea di Ciofani prima e Frabotta poi sulle conclusioni ravvicinate di Arma e di Rozzio. Dopo due minuti il Frosinone resta anche in dieci, manata di Sodimo infatti su Pellegrini e l'arbitro lo manda sotto la doccia. Nonostante l'uomo in più il Pisa però in questa fase non graffia più di tanto. I canarini infatti alzano più volte la testa e si rendono pericolosi come al 78esimo quando Ciofani serve in verticale curiale che entra in area ma Pugliesi si salva in angolo. Nel finale ci prova ancora il Pisa, il tiro di Napoli viene deviato in angolo da Zappino, l'ultima opportunità i Toscani. L'anno al 96esimo, punizione di Giovinco che si infrange sulla barriera, poi il triplice fischio finale. Il Frosinone così continua la sua serie di imbattibilità e domenica andrà a Catanzaro.